visto che tu ogni tanto perdi il conto delle tue vittorie Lorenza Menapace, una delle leader della categoria femminile però so che hai due maglie, anche la maglia di scalatrice ah ce l'ha la Claudia Paolazzi perché quest'anno c'è anche la maglia della scalatore e della scalatrice prima stagione, musica Paolo, patone vai abbiamo dovuto faticare per addormentarci intanto arriva Claudia Paolazzi che appunto veste la maglia di leader all'interno della classifica dello scalatore e della scalatrice mi sembra 80, 100 metri di... quant'è la salita? 400 metri grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.